Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi in studio con me c'è Maria Duni. Ciao a tutti. Che ci aiuterà nella canzone di oggi che è... Sono solo parole di Noemi. Dopo la sigla. Cantare in libertà Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi fondamentalmente che sono Re maggiore, quindi sappiamo che dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il Do, il Re maggiore si compone di Re, Fa diesis e La, Re maggiore, poi ci sarà il Sol maggiore, quindi andando indietro dal Do, Do, Si, La, Sol, Sol, Si e Re forma il Sol maggiore, poi questi due accordi si alterneranno un po' e poi arriverà il Si minore, quindi questo è sempre il Do, indietro c'è il Si, Si, Re, Fa diesis, Si minore e infine il La maggiore, quindi Do, Si, La, La, Do diesis, Mi, e quindi forma il La maggiore e la strofa fa così. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza considerare che sei la ragione per cui io vivo questo è un amore Bene, come abbiamo visto facciamo quattro battute per ogni accordo, poi fa ancora un'altra strofa e arriva la parte del ritornello dove gli accordi sono ancora Sol maggiore, La maggiore, Si minore e La maggiore. Vi faccio sentire come fa. Bene, poi andando avanti c'è un'altra strofa ancora che si ripete uguale tranne che per un accordo che metterà nuovo che è proprio il Do maggiore che tutti conosciamo Do, Mi, Sol e fa così. Vi facciamo ascoltare tutta la strofa e poi arriviamo al ritornello. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che Un attimo eterno, un attimo Tra me e te sono solo parole Bene, poi qua andiamo ancora al ritornello che è uguale a prima e alla fine di questo ritornello ci sarà un nuovo accordo ed ultimo accordo che è il Fa diesis minore Quindi se questo è il Sol, dietro c'è il Fa questo tasto è il Fa diesis Prendendo Fa diesis, La e Do diesis avremo il Fa diesis minore Vi faccio sentire il ritornello Sono solo parole Sono solo parole Le nostre sono solo parole Sono solo parole, 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 parole Bene, e poi subito dopo questo Fa diesis ci sarà lo special che presenterà sempre gli accordi Re, Sol, Si minore e La che già abbiamo visto e farà così Vi facciamo ascoltare E ora penso che il tempo che ho passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me Tu sei stanco di tutto, io non so cosa dire Non troviamo il motivo neanche per litigare Siamo troppo distanti, distanti tra noi Ma le sento un po' mie le paure che hai Vorrei stringerti forte e dirti che non è niente Posso solo ripeterti ancora Sono solo parole Eccetera, poi ripete un po' il ritornello e gli accordi rimangono sempre identici Bene, come abbiamo visto anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoforte Io ringrazio Maria Lumi Grazie a te Mario Per averci aiutato E come al solito vi lascerò in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi di questa canzone Vi ricordo che questa tonalità è mezzotono più bassa rispetto all'originale che altrimenti sarebbe in tonalità Mi bemolle ma in quel caso non sarebbe poi così tanto semplice suonarla e quindi l'abbiamo adattata al Re maggiore E poi vi lascio la diteggiatura per entrambe le mani e due link su come imparare gli accordi al pianoforte in modo semplice Alla prossima! Ciao a tutti!